buonasera a tutti benvenuti a questo terzo webinar che presenta i progetti i risultati del progetto life green grapes coordinato dalla università differenze e dal crea di arezzo i protagonisti di questa sera sono la professoressa laura mugnai dell'università di firenze appunto mauro d'arcangelo del crea e l'agronomo fabio burlioni che cop manager dell'azienda castello di gabbiano io sono giuliano boni di vinidea o il compito di coordinare gli interventi e soprattutto di gestire poi le le domande e di cercare di aiutare al meglio lo svolgimento della serata ormai credo che siamo tutti avvezzi allo strumento webinar e quindi sappiamo come interagire vi ricordo che potete fare domande ai relatori tramite il pannello il vostro pannello di controllo c'è una finestrina che si chiama chat domande in cui potete scrivere appunto le vostre i vostri quesiti che a cui si darà risposta a fine incontro per non interrompere la relazione dei dei relatori e vi ricordo anche fin d'ora che poi domani pomeriggio riceverete una mail con l'attestato di partecipazione e con un ulteriore sondaggio di gradimento sul con sul seminario a cui vi chiediamo cortesemente di rispondere prima di cominciare però pensavamo subito di entrare in in sintonia appunto presentandoci rapidamente quindi se volete rispondere abbiamo preparato alcuni alcune domande per un sondaggio per rispondere basta semplicemente fare click sul pallino corrispondente alla voce che fa al caso vostro se non siete in nessuna di queste cinque voci previste poi ce lo scrivete nella nella chat in caso di problemi con il sistema non non piglia il pallino nella non è possibile fare click uscita dalla modalità a schermo intero e in quel modo dovrebbe essere possibile lo che è già votato praticamente la totalità dei dei partecipanti maggioranza sono abbiamo rapidamente risultati liberi professionisti agronomi per oltre il 50 per cento abbiamo anche molti dipendenti e qualche imprenditore agricolo la seconda domanda che vi facciamo è a quale tematica siete più interessati questo ovviamente è un aspetto più più generale e immagino che parlando oggi di viticoltura di uva da vino sia questo il focus ma magari qualcuno di voi è interessato anche ad altri aspetti del del mondo viticolo in generale ci prendiamo ancora qualche secondo per lasciare il tempo di rispondere siamo già arrivati ai due terzi abbondanti dei votanti quindi chiaramente è un plebiscito per la viticoltura da vino con oltre il 98 per cento e passiamo a questo punto a due domande invece più specifiche sulle tematiche che verranno trattate oggi la prima vi chiede semplicemente se avete sentito parlare dei cosiddetti dss ovvero sistemi di supporto alla decisione prima di quello che vi sarà presentato durante la giornata di oggi questo caso la qua siete rapidissima rispondere stasera veramente bravi siamo arrivati all'ottanta per cento dei votanti quindi possiamo chiudere il sondaggio e vediamo che più o meno due terzi dei presenti conoscono i dss ma un terzo abbondante non ne ha mai sentito parlare quindi è esattamente nel posto giusto per per farlo e infine e poi mi taccio se avete già sentito parlare di prodotti chiamati biostimolanti piuttosto che induttori di resistenza e nel caso li conosciate se li usate anche o semplicemente li avete solo sentiti nominati tanto stanno già arrivando anche un po di informazioni c'è qualcuno che vede anche fabio in tv molto spesso molto bene quindi abbiamo i personaggi giusti bene anche qua abbia superato i tre quarti dei votanti la maggior parte di voi conosce i biostimolanti solo un terzo poco più però gli ha già usati gli altri no quindi di nuovo penso che le informazioni che ci verranno date dai relatori oggi saranno particolarmente interessanti quindi io passo subito la parola a fabio burroni io e gli altri relatori ci facciamo e scompariamo momentaneamente dalla dallo schermo poi ritorneremo ognuno per il suo turno più tardi buona webinar a tutti grazie giuliano e buonasera buonasera a tutti grazie alla presentazione completo velocemente per chi non mi conosce sono uno dei due co fondatori dello studio agronomo in vigna di firenze insieme al collega marco pierucci e io farò questa prima introduzione di questa bella giornata sulla difesa nel vigneto per uva da vino analizzando ciò che abbiamo fatto nel corso di questi tre anni presso un'azienda che produce nel chianti classico e produce uva da vino e il castello di gabbiano a mercatale val di pesa una prima di partire con la presentazione vorrei dire brevemente alcune cose molto semplici sul progetto stesso nel progetto è nato da la volontà nostra di andare a verificare il potenziale di alcune cose che già utilizzavamo nella nei cicli produzione in vigna nel vigneto attraverso una unione anche di quelli che sono i principi della ricerca e soprattutto una validazione di metodi di applicazione di questi di questi composti il progetto life green grapes è un progetto molto corposo è attivo su tutti i vari settori della filiera vitivinicola se già dal titolo si può capire come si applica su quello che il settore viva istico su quello che è la produzione dell'uva da vino come quella lì dell'uva dell'uva da tavola e ci sono delle cose che devono essere messe in evidenza e sono soprattutto estremamente importanti nella filiera vitivinicola perché ogni settore ha un'attività che condiziona enormemente quella successiva e può essere dannoso in certi aspetti ma può portare notevole valore e cercheremo anche in questa breve presentazione che farò di verificare quali sono il potenziale che anche il settore viva istico sulle nuove nei vigneti da uva dal vino può dare incominciamo brevemente andando analizzare quelle che sono le motivazioni che ci hanno portato a sviluppare il progetto e soprattutto anche gli obiettivi dell'azienda che l'ho messo in atto e ringrazio oltretutto anche il direttore che è francesco caselli che ci ha permesso di attuare queste prove sulle superfici aziendali le principali motivazioni partono da quella che è una crescita aziendale dall'economicità legata all'uso dei dss da questi supporti decisionali e sono estremamente importanti in una moderna viticoltura per poter affrontare il mondo dei trattamenti con cognizione di causa a quella che è la tutela del suolo in ambiente collinare è un'azienda toscana nelle colline vicine a firenze pertanto un estremo un ambiente estremamente difficoltoso nella tutela dello strato fertile del terreno quello che è il rispetto del piano di azione nazionale che attualmente addirittura anche in fase di revisione ma sicuramente fondante per l'attività agricola nel settore della viticoltura e poi una delle motivazioni che ha portato l'azienda avvicinarsi anche a questo a questo progetto è quello di definire un nuovo concetto di qualità delle proprie produzioni andando analizzare quelli che sono i principi della crescita aziendale e noi abbiamo messo in evidenza alcuni punti che siano per noi fondamentali prima di tutto quella che attraverso questo progetto e l'attività agronomica che si è portato avanti nel corso degli anni abbiamo aumentato quella che è l'identità e la territorialità delle uve prodotte in modo da poter arrivare a caratterizzare in modo certosino quelle le produzioni aziendali che siano facilmente poi anche riconoscibili oltretutto nel corso degli anni abbiamo aumentato notevolmente quella che è la specializzazione dei vari operatori che sono stati interessati dal progetto ne ha permesso un aumento della consapevolezza nell'utilizzo dei vari macchinari e soprattutto nel nell'approccio con questi mezzi tecnici che sono che sono anche molto difficili da poter utilizzare devono essere conosciuti in modo approfondito per poterli per poter essere utilizzati con successo nel nel ciclo di produzione oltretutto abbiamo implementato programmi difesa consoni a quelle che sono le nuove aspettative dei mercati di consumo e del consumatore finale abbiamo naturalmente poi promosso cicli di produzione che hanno permesso ai vigneti anche di essere tra virgolette una parola grossa ma resilienti a queste continue variazioni delle condizioni climatiche gli ultimi anni 2018 2019 2020 sono state vendemmie sicuramente molto diverse fra di loro che hanno che hanno fortemente condizionato anche le uve finale una cosa positiva da mettere in evidenza è anche l'effetto positivo sul marketing aziendale con un coinvolgimento positivo di tutte e anche le figure aziendali che lavorano sul settore della commercializzazione dei vini che è una cosa non secondaria da mettere in evidenza per quanto riguarda il secondo punto che era l'economicità legata all'uso dei dss nel corso del progetto abbiamo ridotto il numero di trattamenti siamo abbiamo avuto l'approccio nei confronti dei trattamenti consapevoli del rischio di infezione che non è una cosa da poco per un agronomo per un tecnico aziendale estremamente una cosa molto importante e soprattutto ci ha permesso di avere una sicurezza maggiore soprattutto nella prima porzione della stagione con un rischio dove è il maggiore il rischio delle infezioni soprattutto per uno sporiche poi abbiamo avuto soprattutto quello che ha un adattamento di tutte le indicazioni che ci hanno permesso di lavorare sul con precisione su quello che hanno ambiente locale fino a arrivare addirittura a quello che è il vigneto in modo da poter arrivare a caratterizzare fortemente quelle che sono le produzioni di quel vigneto stesso e soprattutto questo e questi dss ci hanno permesso di avere nel momento in cui dovevamo prendere le decisioni un quadro complesso e completo di quelli che che erano gli agenti per patogeni che in quel momento potevano essere attivi nel nostro vigneto in modo da poter decidere con cognizione di causa quale principio attivo quale formulato commerciale potevamo utilizzare infatti come ho detto la capacità di valutare quale principio attivo appunto utilizzare oltretutto questi dss sono molto utili anche nella registrazione dei detrattamenti che con una grossa semplificazione che in questo momento è una delle cose anche più importanti e necessarie e obbligatorie di legge da poter da dover fare per quanto riguarda il terzo punto la tutela del solo in ambiente collinare abbiamo messo in evidenza come sia possibile ridurre gli fenomeni erosivi attraverso l'innerbimento il sovescio che ci ha portato a una valorizzazione dello strato fertile del solo agrario all'implementazione dell'attività della risosfera che per noi è un punto fondamentale della nostra attività professionale del nostro del nostro studio perché riteniamo sia fondamentale per la nutrizione della pianta per la sanità delle uve prodotte per la bontà di tutta la campagna viticola abbiamo poi rallentato il riuscellamento superficiale la percolazione delle acque piovane abbiamo ridotto le perdite di acqua per evaporazione come ridotto un fenomeno che si ha nelle nostre colline le fratture verticali del soli che provocano molti problemi durante il periodo il periodo estivo per quanto riguarda il pane il piano agricolo di attivi il piano di azione nazionale abbiamo raggiunto dei dei risultati molto interessanti soprattutto a livello di formazione del personale e la riduzione del rischio legato all'utilizzo proprio dei fitofarmaci naturalmente questo il progetto ci ha permesso di tutelare le aree sensibili vicino a un vigneto c'è una abitazione che abitata da da persone esterne all'azienda che abbiamo tutelato e naturalmente abbiamo messo in evidenza come sia possibile un minore impatto nelle aree agricole interessate soprattutto a livello di inquinamento puntiforme abbiamo naturalmente anche aumentato la biodiversità per una maggiore sostenibilità nell'uso dei fitofarmaci e soprattutto ridotto quelli che sono i pericoli per l'ambiente acquatico e le acque di falda questi sono dei punti cardine del degli obiettivi del piano di azione nazionale tra l'altro a livello europeo in questa slide si può vedere quali siano i cardini fondamentali che legano tutti i piani nazionali che a livello comunitario vengano messe in evidenza a me piace ricordarne uno in cui negli ultimi anni praticamente raddoppiato con l'utilizzo di questo piano agricolo il piano di azione nazionale il il numero di fitofarmaci a basso rischio dal 2009 e soprattutto come ultimo punto definire un nuovo concetto di qualità abbiamo operato in un contesto privilegiato quello del chianti classico vicino a firenze in un'azienda internazionale e già caratterizzata da dei vini di qualità molto elevata un dubbio sul futuro su quello che è un nuovo concetto di qualità qui vedete una classica definizione di quella che è la qualità per un bene di un bene ma soprattutto di quello che è un nuovo concetto che si inserisce in un mercato ormai maturo storico come quello dell'unione europea o quello degli stati uniti in cui da quello che siamo passati da quello che è il bisogno del di un vino invece a quella che è l'importanza di un modello socialmente responsabile in viticoltura sia nelle risorse umane nel territorio nel prodotto finale nell'ambiente questo secondo noi è un nuovo concetto da che si può esprimere in viticoltura in una viticoltura moderna che sappia aperta e che non abbia gli occhi foderati da da cose che impediscono praticamente di allargarne ormai l'agronomia come diciamo sempre noi è patrimonio di tutti e qualsiasi sistema deve essere portato a beneficio di tutti o che sia un ipm integrato come sia nel biologico o addirittura nel biodinamico veniamo un po a parlare invece di quelle che sono di quelle che sono proprio di quello che è il progetto con la sua struttura in questo in questo campo principale che è quello lì della difesa nel vigneto di uva da vino voi sapete naturalmente che chi ha seguito i precedenti webinar che abbiamo parlato del vivaismo parleremo dell'uva da tavola abbiamo parlato del sistema life in senso generale questo webinar praticamente parla in particolare della difesa nel vigneto da uva a vino la struttura si parte da tre cardini, la difesa fitosanitaria, la gestione del suolo e un nuovo impianto di un ettaro e mezzo che è stato fatto in azienda Tassello di Gabbiano ci ha messo a disposizione un'importante superficie, 10 ettari che ci ha permesso di validare con forza quelle che sono le attività che noi abbiamo fatto non sono pochi filari messi a disposizione ma una grossa porzione del vigneto aziendale l'azienda è poi un corpo unico ben esposto e contiguo indicato proprio per poter ammettere a confronto fra di loro le tesi che qui velocemente ricordo un integrato aziendale, l'azienda è convenzionale per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti ma segue da sempre con convinzione il sistema di coltivazione integrata la seconda tesi è un integrato aziendale con una riduzione al 50% dei fitofarmaci che è un obiettivo estremamente importante per noi poi abbiamo messo a confronto un biologico standard diciamo che abbiamo definito che io e Marco definiamo un biologico standard un cosiddetto cupro solforico cioè quelli in cui utilizziamo solo e esclusivamente rame e zolfo alle dosi massime consentite dalla legge all'inizio 6 kg dopo successivamente 4 kg una tesi con biologico una riduzione del 50% del rame e invece una tesi in cui abbiamo inserito uno zero rame in cui abbiamo messo sotto stress tutti i composti che noi abbiamo utilizzato nel corso della stagione che erano quelli che prima Giuliano ricordava insieme anche a tante altre sostanze soprattutto coprenti che ci hanno permesso di portare a termine la stagione ma che è stata un'ottima palestra per capire bene l'attività di questi prodotti porto questa veloce slide su quelli che sono i trattamenti fitosanitari tre anni 2018, 2019, 2020 con il 2018 è stato il primo anno in cui abbiamo inserito il DSS è stato un'annata non semplice infatti vedete in fondo nel biologico zero rame siamo stati costretti ad inserire due trattamenti con rame perché avevamo un problema su delle infezioni di perono sporica abbastanza rilevanti e poi vedete come nel corso degli anni invece abbiamo imparato fra virgolette a mettere a frutto la nostra esperienza e ciò che abbiamo acquisito come dati come informazioni negli anni precedenti e con l'utilizzo dei DSS che ci hanno permesso soprattutto di ridurre il numero di trattamenti questo discorso della riduzione del numero di trattamenti non è una cosa da prendere sotto gamba voi pensate che facciamo conto di quel vigneto che il castello di Gabbiano ci ha messo a disposizione sono 10 ettari la riduzione di un semplice trattamento considerando che un contoterzista possa costare per un trattamento circa 80-90 euro per poterlo effettuare e un costo dei vari prodotti minimo diciamo 50 euro sono circa 130-150 euro a ettaro risparmiati per 10 ettari sono già 1500 euro io lo dico sempre questa cosa non tanto per mettere in secondo piano gli aspetti ambientali che sono per me e per noi preminenti ma semplicemente per far capire che gli investimenti che vengono fatti su una centralina e sull'utilizzo del DSS se fatti da tecnici bravi che agiscono con precisione in modo oculato sono degli investimenti che si riescono a coprire in pochissimo tempo non dicono in capo a una semplice stagione ma sicuramente in due per quanto riguarda la difesa infatti come vi ho detto vi ho detto prima abbiamo nel corso del tempo imparato a utilizzare in modo migliore questi DSS questi supporti alla decisione e soprattutto abbiamo visto come sia necessario integrare il loro utilizzo con i rilievi in campo e il tecnico d'agronomo che calpesta il vigneto è sicuramente una delle cose fondamentali per poter permettere di utilizzare al meglio questi mezzi che la tecnica ci offre in questo momento un'ulteriore cosa che mi piace mettere in evidenza è stata l'acqua per i trattamenti che è stata utilizzata da 100 a 300 litri a ettaro e capite bene come in un'azienda delle dimensioni anche del castello di Gabbiano che ha una superficie vitata superiore anche ai 100 ettari come poter ridurre semplicemente il numero di trattamenti abbia permesso di ridurre notevolmente l'acqua utilizzata e soprattutto perché questo progetto ci ha permesso anche di utilizzare delle macchine per ridurre le cosiddette derive è stato uno dei principi più importanti anche per tutelare gli ambienti sensibili che erano vicini al vigneto stesso come vedete è presente una torretta superiore per quanto riguarda invece la parte legata al suolo abbiamo agito sulle tesi in due modi utilizzando quello che è un inerbimento spontaneo a filare alterni che era la gestione comune aziendale e proponendo una soluzione alternativa un sovescio sempre a filare alterni con un mispuglio plurispecifico questa gestione del suolo è stata condotta con estrema semplicità con una semina del sovescio con una seminatrice portata durante il mese di novembre nell'ultimo anno con uno sfalcio sia del sovescio e successivo interramento durante aprile e maggio a seconda dei momenti e degli anni e degli altri due tagli fatti a giugno o luglio l'inerbimento ha seguito praticamente il sovescio con lo sfalcio a maggio, a giugno e a luglio c'è stata poi una semplice spollonatura sottofila fatta nel mese di luglio mentre i filari che non erano né nerviti né sovesciati hanno subito due lavorazioni del terreno a marzo e a maggio questo è il vigneto col direttore che ci saluta per quanto riguarda invece il nuovo impianto questo è stato il collegamento dell'azienda con il settore vivaistico che è stato analizzato su cui si è focalizzata l'attività del progetto Green Grapes nei due vivai toscani che hanno prodotto il materiale che è stato utilizzato con questo nuovo impianto chi ha seguito il webinar precedente sa come abbiamo lavorato e quali tecniche abbiamo implementato nella produzione delle barbatelle biologiche per il nuovo impianto abbiamo utilizzato una sostanzialmente tanto così per ricordarlo velocemente delle tecniche particolari di microrizzazione questo materiale è stato impiantato è stato prodotto naturalmente in vivaio iniziando nel 2018 è stato impiantato in azienda nel nuovo vigneto nel 2019 con una prima portatura fatta a marzo 2020 ma il risultato fondamentale da una prima analisi del vigneto nel secondo anno di vegetazione scusate quello del 2020 è quello che abbiamo ottenuto piante più omogenee meno vigorose pertanto internodi anche più corti che sono anche estremamente importanti per la costruzione di una buona pianta molto velocemente una minore emissione di femminelle e una gestione del verde più veloce e soprattutto meno ferite effettuate durante la legatura proprio per questa minore emissione delle femminelle e questo è una cosa molto importante che è da mettere in evidenza soprattutto quando andiamo a pensare a come sia importante limitare enormemente le ferite sia le ferite nel nuovo vigneto per aumentarne anche quella che è la sanità e la durata nel corso degli anni della stessa vigneto veniamo velocemente a quelle che sono le conclusioni il progetto ci ha permesso di aumentare quella che è il grado di specializzazione del personale ha reso tutto il personale che ha partecipato al progetto più consapevoli delle varie operazioni e delle tecniche che stavano utilizzando e questo è estremamente importante perché ha permesso a queste persone di apprezzare il valore delle tecniche culturali che stavamo mettendo in mostra durante questi tre anni che abbiamo messo in mostra durante questi tre anni di lavoro abbiamo messo in evidenza come sia necessaria l'integrazione dei DSS con i sopralluoghi in campo e questo è sicuramente una cosa importante per qualificare ulteriormente quello che è il lavoro dell'agronomo del tecnico di Campania abbiamo visto come i DSS e l'utilizzo di questi induttori di resistenza biostimolanti, coprenti abbia permesso di ridurre il numero di trattamenti e dell'acqua utilizzata e poi soprattutto perché a livello aziendale ha permesso la formazione di una mentalità operativa vicina a quella che è la viticoltura di precisione che non è un elemento secondario come naturalmente come risultato e poi per terminare ha permesso un allevamento di un nuovo impianto con minori ferite e suscettibili di infezione e soprattutto ha permesso di ottenere un nuovo impianto più omogeneo e sicuramente con un'entrata in produzione che sarà a breve e sicuramente con delle percentuali molto alte di piante che potranno essere che entreranno in produzione grazie per l'attenzione e naturalmente poi rimango a disposizione per tutte le domande al termine delle varie presentazioni dei miei colleghi grazie 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 mille Fabio in effetti sono già arrivate un po' di domande ma che appunto conserviamo per la fine ne approfitto adesso facciamo noi un po' di domande ai partecipanti ma intanto vi ricordo che sempre nel pannello di controllo di GoToWebinar c'è una sezione si chiama documenti in cui potete già scaricare tutte le presentazioni che vedrete stasera e inoltre dei documenti informativi sul progetto e anche i risultati della prima e della seconda annualità dei lavori quindi dalla sezione documenti avete già la possibilità di scaricare tutto quello che vi interessa allora andiamo al prossimo sondaggio abbiamo parlato appunto del progetto Life Green Grapes Fabio ci ha presentato un po' l'approccio sperimentale quello che voglio sapere è se prima del webinar di stasera ne avevate mai sentito parlare o siete capitati qua appunto perché stimolati dalla curiosità di di saperne di più e di approfondire l'argomento ancora qualche secondo per raggiungere i due terzi dei votanti che statisticamente fanno la la soglia della significatività bravissimi siete siete molto molto celeri a votare stasera allora vediamo pure i risultati siamo poco più di metà ha già sentito parlare del progetto e però molti ancora lo conoscono per la per la prima volta la domanda successiva è rivolta a chi ha votato sì alla prima domanda quindi chi ha già sentito parlare di live green grapes dove lo ha sentito parlare quindi su riviste più o meno specializzate su siti internet attraverso i mailing che vengono fatti da fabio durante le sue esibizioni in televisione piuttosto che dal passaparola con colleghi o eventualmente altro magari poi l'altro ce lo specificate sempre nella nella chat che qua attendiamo ancora qualche secondo per permettervi di completare le risposte chiaramente il totale un po' meno perché metà dei partecipanti non ne aveva sentito parlare e vediamo che la grande maggioranza ne ha sentito parlare tramite internet nelle sue diverse forme ma anche il passaparola tra colleghi bisogna dire che è stato rilevante nella comunicazione sul progetto infine abbiamo due domande che o meglio una stessa domanda che però va divisa in due per questioni di di opzioni possibili quali dei seguenti temi del progetto live green grapes ritenete che siano più utili alla vostra attività ce ne saranno altre tre opzioni la prossima volta sulla prossima sondaggio vi chiedo di selezionare non più di un paio per scheda e le opzioni sono è utile per l'incremento della biodiversità dei suoli perché ha favorito la produzione di barbatelle biologiche perché si incrementa la produzione di barbatelle microrizzate o perché si riducono i fitofarmaci per la produzione di uva da vino arriviamo anche qua ai due terzi bravissimi vediamo i risultati della prima scusate ho cliccato sul pulsante sbagliato ecco qua direi che sicuramente la riduzione dei fitofarmaci è un tema che sta a cuore a tutti e effettivamente il progetto aiuta ad andare in questa direzione molto sentita è anche l'incremento della biodiversità dei suoli e questo mi sembra un ottimo spunto infine l'ultimo sondaggio per questa sezione poi ve ne proporrò altri tre a fine webinar è sempre la domanda è sempre la stessa quali temi del progetto ritenete siano più utili per le vostre attività in questo caso la riduzione dei fitofarmaci diretta alle uve da tavola quindi la valutazione dei prodotti di protezione alternativi ai prodotti a base rame quindi possibilità di diversificare i prodotti utilizzati per la difesa e il riflesso di questi nuovi trattamenti sulla qualità ma anche sulla quantità delle produzioni finali ancora qualche secondo come sempre bene siamo arrivati al 70% dei risultati la riduzione del rame è un tema che decisamente vi sta a cuore si ricollega anche a una delle domande che sono arrivate nel frattempo ma anche in generale il riflesso di quanto ottenuto dal progetto può avere come riflesso sia sulla qualità ma anche sulla quantità delle produzioni in vigneta molto bene passo ora la parola a Laura Mugnai professoressa dell'università di Firenze che non ha bisogno di presentazioni Laura ti invito a condividere lo schermo a accendere la webcam così ti vediamo e io e Fabio io e Fabio invece scompariamo dalla vista e ci risentiamo ora ci siamo mi vedete mi sentite ti vediamo e ti sentiamo bene allora intanto mi riesce di cominciare eccoci allora la la mia relazione verterà su argomenti un po' più applicativi rispetto all'introduzione ampia che ci ha fatto Fabio andremo a vedere proprio che cosa abbiamo fatto in pratica per per verificare per imparare per mettere a punto dei protocolli alternativi a quelli classici per la difesa quindi individuare quali sono i problemi che dobbiamo affrontare per proteggere il vigneto con prodotti a impatto minore sull'ambiente tutto quello insomma che ci ha già detto Fabio non solo il rame ma in generale anche i prodotti di sintesi il progetto quindi ha creato a questo scopo una serie di tesi diverse che già Fabio ci ha fatto vedere quindi abbiamo la difesa integrata e la difesa integrata con riduzione di fitofarmici la difesa biologica e la difesa sempre biologica con riduzione di fitofarmici come diceva Fabio il 50% è l'obiettivo a cui cerchiamo di avvicinarsi il più possibile a cui siamo andati in realtà abbastanza vicino e poi abbiamo questa ultima tesi di sfida è una tesi con il 100% di riduzione quindi niente rame niente fitofarmici nessun prodotto dichiarato un prodotto fitosanitario per la difesa le due tesi ultime questa del biologico e riduzione del 50% di fitofarmici in vigneto biologico le abbiamo anche replicate in due esposizioni diverse queste tesi che si strutturano adesso vi faccio vedere un'immagine rapida del vigneto si strutturano in filari paralleli in un vigneto di 5 ettari con condizioni molto uniformi sono state analizzate tramite i risultati quindi sono stati analizzati tramite il monitoraggio di cui si parlava prima delle malattie principali che troviamo sulla vite e importantissimo l'utilizzo dei sistemi di supporto alle decisioni i sistemi di supporto alle decisioni sono un mezzo che sta diventando sempre più importante per individuare gli elementi di rischio le fasi di rischio nelle varie malattie che possiamo trovare in vigneto ora non c'è il tempo di illustrarveli con dettaglio però quello che abbiamo scelto noi è il sistema Orta Vitenet che fornisce una serie di indicazioni anche di rapido utilizzo su l'andamento delle epidemie nel vigneto sulla base di tutti questi elementi poi abbiamo via via proceduto a fare delle scelte appunto sui protocolli da adottare i protocolli in cosa consistevano ora in questa fase voi sapete che per ridurre l'impatto dei fitofarmaci ci sono tante cose che possiamo fare non soltanto il monitoraggio non soltanto la scelta dei prodotti ma come questi vengono applicati quando le osservazioni sullo sviluppo della vegetazione insomma sono tutte le tecniche culturali che ci possono aiutare in modo importante a ridurre la necessità di utilizzare dei prodotti che vadano ad agire direttamente sul patogeno ora in questo progetto però ci siamo proposti soprattutto di affiancare ai prodotti per la difesa quindi i veri e propri prodotti pitosanitari che sono registrati come tali che hanno dimostrato per poter avere la registrazione di possedere delle azioni importanti e specifiche verso diversi patogeni ecco ci siamo proposti di affiancare a questo dei prodotti che già più o meno utilizzavamo come all'interno dei piani di gestione diciamo del vigneto affiancarli inserendoli proprio nel protocollo di difesa non perché questi abbiano un ruolo diretto sulla difesa ma perché sono prodotti che hanno proprio la capacità di supportare la pianta nella sua nella nell'attività vegetativa nell'incontro con i organismi esterni patogeni quindi alcuni di questi sono prodotti che hanno dimostrato anche delle capacità di stimolare reazioni di difesa della pianta pur non essendo dei prodotti degli induttori di resistenza come possono essere alcuni fitofarmaci registrati come tali ma sono delle capacità che sono legate proprio alla natura di questi prodotti si tratta di prodotti che di solito hanno una serie di componenti microrganismi sostanze naturali prodotti componenti che lavorano in sincronia che hanno azioni diverse che portano a aiutare la pianta appunto sia nella difesa sia nella mantenersi più sana nel a volte anche con un impatto importante anche sulla qualità allora questi prodotti però abbiamo detto non sono prodotti che possiamo considerare dei veri e propri effetti farmaci e quindi li abbiamo integrati nella difesa qui vi ho portato l'esempio del del protocollo che abbiamo utilizzato per la difesa integrata con riduzione del 50% dei prodotti fitosanitari e qui vedete che in alcuni casi abbiamo sostituito nel trattamento in certe fasi del ciclo abbiamo eliminato proprio i fitofarmaci veri e propri e abbiamo soltanto aiutato la pianta in quella fase in altri casi invece abbiamo utilizzato questi prodotti per supportare l'azione di difesa del fitosanitario con riducendone fortemente la quantità quindi possiamo abbiamo voluto provare a ridurre la concentrazione del prodotto fitosanitario al minimo ammissibile ovviamente minimo di etichetta aiutandolo però con l'utilizzo di questi prodotti alternativi i prodotti che cosa sono sono dei fertilizzanti voi sapete appunto che gli induttori di resistenza sono una categoria di fitofarmaci ormai è un tipo di azione che a partire dallo storico propositi dell'alluminio altri prodotti hanno microrganismi o parti di microrganismi sostanze naturali strati di alga eccetera ci sono prodotti registrati per questo scopo quello che abbiamo utilizzato noi invece sono prodotti che sono proprio classificati come fertilizzanti o biostimolanti che quindi non hanno una dichiarata azione nel superamento degli stress biotici ma anzi lavorano dalla parte della pianta questo è il protocollo che abbiamo usato invece nel bio con riduzione del 50% e anche qui qui abbiamo invece più frequentemente affiancato la bassa quantità di la minima quantità di prodotti rameci o anche di zolfo con questi prodotti di supporto questo è il vigneto sono poi in realtà tre vigneti come vedete il vigneto più grande è quello dove abbiamo affiancato tutte le tesi e gli altri due quelli dove abbiamo replicato le ultime due il biologico e il biologico a riduzione con esposizioni diverse che cosa vediamo adesso il tempo è poco quindi cerco di andare un po' al sodo in questo caso vediamo l'andamento dell'oidio durante la stagione questo è il caso del 2020 ma riporto solo il 2020 perché come vedete già da questa prima immagine l'incidenza dell'oidio è stata quasi nulla praticamente nulla che cosa ci dice il DSS perché è così importante questo primo quadro delle infezioni ascosporiche è organizzato in modo da evidenziare con le piccole pallini rossi i momenti di rischio elevato quelli in cui è bene che ci sia una protezione perché le infezioni sono molto probabili una cosa che voglio sottolineare è che il rischio di infezioni nell'oidio inizia già alla fine di aprile questa è una cosa che tendiamo spesso a scordarci si tende a fare la difesa dall'oidio nelle fasi in cui c'è anche un rischio di peronospora ma le infezioni primarie ascosporiche sono molto importanti sull'oidio e sono anzi fondamentali nello sviluppo successivo della malattia che cosa ci fa vedere ancora questo grafico le parti colorate in giallo chiaro sono le parti in cui l'utilizzo del protocollo di difesa integrata ci permette di proteggere la vegetazione e vedete che la vegetazione è protetta in modo continuo utilizzando un sistema un protocollo classico di difesa integrata convenzionale e nelle due frecce rosse vedete come ci sono dei periodi lunghi in cui il rischio in realtà non era molto alto e in queste fasi si possono ci si può concentrare utilizzare i prodotti a basso impatto che aiutano la pianta a reagire ma senza avere un impatto diretto con il patogeno e questo è quello che in effetti è avvenuto queste sono ancora le infezioni ascosporiche vedete i diamanti rossi sono le infezioni che si sono realizzate e cosa vediamo qui qui abbiamo il bio al 50% integrato confrontato con il bio al 50% e in basso lo zero zulfo quindi nessun fitofarmaco controllo idio vedete che nel riquadro cerchiato in nero sono evidenzate molte infezioni ascosporiche quello che però vi dicono che vedete scritto in rosso è che l'incidenza della malattia è stata bassissima proprio un grappolino infetto ogni tanto quindi in questo caso il supporto dei prodotti che abbiamo utilizzato nell'ultima tesi che era per noi una tesi un po' di sfida e ci fa vedere come in realtà se la pressione non è troppo elevata il perfino una gestione totale con questo tipo di prodotti può portare a farci raccogliere un'uva sana chiaramente sullo idio bisogna stare attenti non ci si scherza però questa è una indicazione molto forte chiaramente nessun sintomo nel bio al 50% e nell'ipm e qui ancora vedete la stessa cosa certo possiamo ipotizzare che ci sia stato una sovrastima del rischio cosa che ci piace sempre meglio che un modello ci sovrastimi le infezioni piuttosto che le sottostimi però sappiamo che comunque un 0,1% c'era e nel Chianti l'oidio non è proprio una cosa occasionale quindi è un risultato un'indicazione importante andiamo invece alla peronospora per la peronospora il modello previsionale dico due parole giusto perché mi ricordo adesso che una buona parte degli ascoltatori non ha una pratica con questo tipo di approcci questi si tratta di modelli in cui che vengono che elaborano le informazioni che si raccolgono dalle centraline che sono disposte nel vigneto e elaborando queste informazioni e mettendole insieme allo sviluppo della vegetazione al momento in cui la vegetazione è iniziata quindi insomma una serie di informazioni che caratterizzano quel preciso vigneto ecco elaborando queste informazioni danno delle immagini sull'andamento dell'epidemia chiaramente noi analizziamo il risultato finale adesso però queste informazioni si possono consultare giorno a giorno per capire quale è il rischio più vicino diciamo che cosa vediamo in questa immagine qui si tratta sempre di si diceva di peronospora questa è l'integrata con riduzione al 50% e vediamo che le barre azzurre ci dicono quando la nostra vegetazione era protetta dal fitofarmaco il modello in questo caso infatti registra il tipo di fitofarmaco che abbiamo utilizzato le dosi con cui le abbiamo dato le piogge di lavanti che ci sono state e ci dice quanto il trattamento che abbiamo applicato continua ad essere efficiente i diamanti rossi sono di nuovo in momenti di infezione quindi qui vediamo che tutti i momenti di infezione erano protetti dal prodotto però che cosa dai fitofarmaci che hanno stati analizzati però che cosa vediamo che in certi casi dove ci sono le frecce azzurre abbiamo utilizzato invece i biostimolanti o i fertilizzanti a seconda del caso e cioè perché in questi momenti perché sono momenti in cui non c'è pressione della malattia non ci sono infezioni previste non ci sono i diamanti rossi e questo ci ha permesso di ridurre notevolmente la quantità di prodotti sia perché che li abbiamo supportati riducendo la quantità durante quando facevamo trattamenti doppi con fitofarmaco e gli elementi di supporto e in certi casi appunto utilizzandoli da soli anche in questo caso vediamo un po' la stessa cosa abbiamo sempre dei trattamenti applicati in assenza di rischio come è andata a cosa ha portato questo tipo di approccio chiaramente abbiamo avuto nelle tesi la vedete sulla destra le barre più alte in verde il CG5 no protezione qui abbiamo avuto un 7-8% di peronospora alla fine della stagione quindi abbiamo utilizzato soltanto prodotti di supporto ma dove abbiamo utilizzato prodotti fitosanitari alternati o ridotti grazie all'utilizzo di questi prodotti il l'impatto della della malattia è stato molto contenuto qui si parla di incidenza dei sintomi fogliari quindi sotto il genere sotto il 4% e non abbiamo avuto nessun danno al grappolo quindi l'utilizzo di questi prodotti ci ha permesso di raggiungere un ottimo risultato considerando che abbiamo ridotto appunto di quasi il 50% i prodotti fitosanitari sia di sintesi che il rame qui vediamo ancora l'incidenza finale di peronospora però ecco la cosa importante è che non abbiamo avuto danni sul grappolo qui vediamo l'andamento anche nelle altre due esposizioni vediamo come la malattia è influenzata anche dall'esposizione la parte più a nord c'è stata un'infezione leggermente più alta ma comunque sempre soltanto fogliare e una infezione minore nella una buona un buon risultato anche nella riduzione del 50% di rame il rame metallo vedete non è esattamente il 50% ma la riduzione importante quindi un buon risultato anche per prodotti di sintesi è una riduzione significativa nell'anato 2020 invece ecco e questo prima di passare al grafico voglio ricordarvi che questo progetto ci ha permesso di fare una cosa che l'azienda normalmente non fa e cioè di rischiare di sperimentare provare e sfidare un po' anche questi prodotti proprio per imparare a conoscerne i limiti questo è un elemento molto importante perché uno non può rischiare in un vigneto produttivo su grandi superfici certamente è una buona abitudine anche le nostre aziende fare delle prove limitate per vedere nell'ambiente in cui si lavora come certi prodotti lavorano comunque il vantaggio di avere un progetto a disposizione l'abbiamo sfruttato pienamente e qui vedete che in un'annata come questa 2020 che è stata particolarmente difficile per la peronospora abbiamo avuto in effetti delle infezioni molto pesanti qui vedete le linee azzurre del a tesi che non ha visto l'impiego di fitofarmaci che ha raggiunto dei valori inaccettabili si parla del 70-80% chiaramente nell'integrato al 100% invece vedete sulla destra l'integrato di PM al 100% la malattia è stata limitatissima ma anche anche con il 50% di IPM abbiamo avuto una malattia comunque un'incidenza peronospora sulla foglie del 20% allora perché questo è avvenuto qui vediamo ancora i dati e come nelle tesi dove abbiamo ridotto i fitofarmaci ci sono stati degli aumenti nella presenta di peronospora sul grappolo chiaramente il danno non era così elevato e vedete che sul grappolo le frecce ve lo indicano con il bio al 50% abbiamo avuto un 15% di danno con il rame il 20% quindi certamente importanti ma con l'IPM al 50% ad esempio il danno era trascurabile e abbiamo comunque ridotto la quantità di rame allora perché cosa abbiamo osato fare in questa annata così difficile che rischi abbiamo corso qui lo vedete avete ormai imparato a leggere un po' questo tipo di rappresentazione le bande blu che ci dicono che in alto nel grafico dell'IPM le infezioni primarie sono totalmente protette perché ci sono le bande blu per tutto per tutta la durata del quasi tutta la durata della stagione c'è soltanto una piccola finestra e in effetti qui c'è stata un'infezione limitata di un 9% ma nell'IPM con riduzione vedete che qui c'è la sfida un momento in cui ci sono una serie di diamanti rossi ora sono un po' accavallati ma sono ancora di più di quello che si vede qui sono un po' sovrapposti quindi una serie di giornate 5 o 6 giornate una dietro l'altra in successione con momenti di rischio molto significativo e in questo momento abbiamo applicato prodotti che non sono dei veri e propri fitosanitari questo lo vediamo anche in questa in quest'altra immagine vedete con il bio a 50% il periodo non protetto da prodotti fitosanitari ha avuto soltanto il supporto quella linea rossa che vedete trasversare longitudinale abbiamo avuto soltanto il supporto dei prodotti alternativi di questi prodotti a basso impatto biostimolanti o fertilizzanti dobbiamo dire che la linea se guardate bene questa linea rossa che vedete in basso in ciascuna delle tre sezioni rappresenta l'andamento della malattia che cosa si nota si nota che la prima fase della stagione nella prima fase della stagione le infezioni erano presenti ma anche nel rame zero siamo riusciti a contenere queste occasioni queste infezioni occasionali diciamo isolate e la malattia non si è manifestata ma quando abbiamo lasciato la vegetazione meno protetta anzi non protetta da avere i propri fitofarmaci ma abbiamo soltanto cercato di aiutare la pianta questo non è stato sufficiente e l'infezione è partita dopo poco rapidamente anche qui vediamo sempre una rappresentazione della relazione fra le infezioni primarie e le secondarie in questo caso vedete che più o meno il problema le condizioni favorevoli per le infezioni primarie che sono riportate nel grafico in alto sono analoghe a quelle delle infezioni secondarie e in alto vedete l'andamento della malattia si può accelerare se no porto via tutto il tempo al mio collega quindi la perdita comunque è stata evidente ma tutta collegata a questo momento in cui abbiamo allentato l'attenzione dunque abbiamo visto che è possibile effettivamente ridurre l'uso dei prodotti per la difesa supportando la pianta nella sua azione va detto che è importante utilizzare questi prodotti sapendo come agiscono quindi noi non abbiamo seguito il protocollo di una dita o di un'altra abbiamo cercato di scegliere prodotti diversi ma che hanno lo stesso tipo di azione sulla vegetazione quindi di ripetere ad esempio certi trattamenti che si rinforzano a vicenda nella prima fase della vegetazione del ciclo in tutti almeno tre volte ecco abbiamo ripetuto un po' come si fa con i positivi alluminio prodotti che aiutano la pianta devono confermare questa azione rinforzare questa azione in tempi successivi e vicini l'elemento critico rimane la pressione della malattia quindi vediamo come davanti a una malattia conclamata e con un rischio molto importante dobbiamo scegliere prodotti che hanno un'attività diretta contro il patogeno però quando la pressione è bassa abbiamo potuto ridurre in modo molto efficace o addirittura perfino eliminare i prodotti per la difesa quindi chiaramente valutando tutto questo è possibile perché possiamo valutare il reale rischio appoggiandoci ai sistemi di supporto alle decisioni quindi sono due elementi di supporto per le decisioni e per la difesa della pianta è molto importante anche il fatto di ricordare che le condizioni nel vigneto possono cambiare quindi le centraline devono essere dotate di sensori che raccolgano le informazioni delle diverse zone del vigneto è molto importante scegliere bene la posizione in cui questi dati si rilevano quindi ricordare appunto che non sono sostanze attive ma decomposti che agitano in modo diverso quindi utilizzarli con le precauzioni che abbiamo detto e comunque ecco questi l'utilizzo di prodotti alternativi nei momenti di bassa pressione ci può permettere ad esempio di affrontare con più tranquillità il problema della bassa quantità di rame che abbiamo a disposizione e conservare il rame per i momenti in cui come abbiamo visto è davvero necessario intervenire con un prodotto ad azione più diretta e invece ridurlo fortemente quando la pressione è più bassa bene vi ringrazio mi sono dimenticata di mettere la slide di ringraziamento quindi ve lo dico a voce e passo la parola al mio collega benissimo Laura grazie mille intanto che passiamo lo schermo a Mauro D'Arcangelo del CREA vi ricordo sempre che potete scaricare i documenti dal pannello di controllo qualcuno ha detto che non riesce a farlo ogni tanto l'informatica non ci è mica ma nel caso mandate una mail all'indirizzo del progetto quindi Life Green Grapes tutto attaccato chiocciolagmail.com e ve li mandiamo con quel sistema vi ricordo anche tutti gli agronomi che hanno segnalato il proprio numero di di tessera verranno eh comunicaremo noi automaticamente all'ordine la vostra presenza al webinar e quindi vi verranno riconosciuti eh i crediti eh formativi Mauro prego bene allora siamo in direttore d'arrivo ehm chi mi ha preceduto ha già introdotto ehm ampiamente quella che è eh poi sarà la mia trattazione in questi 20 minuti che cosa cercherò di fare con voi cercherò di eh puntualizzare le caratteristiche di questi nuovi prodotti che noi ci troviamo ci siamo trovati ad utilizzare eh in verità in questo progetto ed eh provare anche a dare alcune indicazioni tecniche su eh le modalità con cui questi eh prodotti questi nuovi prodotti possono aiutarci in verità ad eh una difesa più attenta ancora prima di eh comunque andare nel dettaglio di quella che è la eh poi la presentazione è già emerso e preme risottolineare quello che è in verità un mutato contesto normativo in cui noi oggi ci troviamo eh non a caso con il New Deal eh noi ci siamo e con il Green Deal in verità ci siamo ci troviamo in un ehm in un contesto in cui eh la protezione delle piante assume eh un nuovo paradigma eh noi anni fa appunto all'inizio del progetto c'eravamo posti in obiettivo che era quella di ridurre del 50% l'uso dei pesticidi quindi eh quasi con eh un fare da visionari eh oggi noi ci troviamo addirittura l'Europa che in un qualche modo con eh quelli che poi saranno degli strumenti normativi ancora più più fini eh ci dice che noi questa attività la dobbiamo porre in essere quindi eh nella nostra attività eh di imprenditori agricoli dovremo porre attenzione a quello che sarà l'impatto della nostra protezione delle piante eh sull'ambiente ci pone anche altre altre sfide l'Europa stessa ce le pone e ci dà anche se vogliamo degli strumenti in questo caso economici e finanziari che in qualche modo si spera ci possano permettere di eh superare eh le sfide che appunto sono sono in corso sempre nell'ambito di quella che è poi il cambio di questa nostra diciamo di questo nostro orizzonte in cui sino a ieri lavoravamo c'è da considerare anche eh un'altra serie di norme che incidono e hanno inciso profondamente su quello che è poi il eh l'utilizzo di questi eh dei prodotti fitosanitari eh nell'attività eh imprenditoriale che ci vede coinvolti è già stato citato da dottor Burroni il PAN a cui eh di gran parte delle aziende anzi la totalità delle aziende sono dovute in qualche modo ehm così eh adeguare il PAN che è in verità in revisione ma ancor più eh le aziende sono dovute eh in qualche modo abituare all'idea che tutta questa disponibilità di principi attivi che sino a dieci anni fa eh era presente in verità oggi non l'abbiamo più se noi andiamo semplicemente a vedere quello che è il numero di principi attivi eh che per eh processi normativi complessi che non sto qui a denunciare oggi non abbiamo più sul mercato vediamo che abbiamo di fatto ridotto di due terzi il numero eh di queste nostre eh strumenti tecnici da utilizzare nella protezione delle piante e eh questo che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire appunto che eh e ci porta anche ad operare eh eh con una visione che risulta essere diversa cioè il paradigma eh della protezione delle piante è cambiato tant'è che noi abbiamo già allora ripeto all'inizio del progetto pensato di trasformare quello che era eh diciamo così in un one on one cioè una difesa improntata alla distruzione al contenimento di quel parassilo di quel patogeno eh abbiamo pensato che forse appunto eh questa attività poteva essere svolta attraverso una visione diversa visione che in verità è già stata adottata viene adottata normalmente in quella che l'industria eh agroalimentare o addirittura nelle nostre cantine una visione che vede di fatto la creazione di ostacoli quale momento per ridurre eh gli effetti negativi ripeto di quelli che possono essere i patogeni o i parassiti presenti eh nel nostro vigneto quindi non più una difesa improntata al semplice uso eh di quel determinato fitofarmolo di quel determinato principio attivo ma una difesa che deve tener conto di quello che è l'equilibrio eh del vigneto adottando tutte quelle tecniche agronomiche non solo eh non solo che sono alla base fondamentalmente di quella che viene eh comunemente eh definita teoria e o tecnologia dell'ostacolo detto questo e su su questo no su questa nuova visione ecco che eh l'utilizzo di questi nuovi prodotti eh che grazie al regolamento eh duemiladiciannove numero mille e nove eh da si definiscono in maniera propria che sono praticamente i biostimolanti i biostimolanti eh trovano fondamentalmente con questo regolamento una collocazione ben precisa una definizione ben precisa ed eh definiscono quindi eh non soltanto che tipo di prodotti sono ma poi vanno a definire anche che tipo di utilizzo ne dobbiamo ne dobbiamo fare eh la dottoressa Mugnai ha sottolineato come in verità nel nostro progetto abbiamo fatto uso di queste di questi prodotti e li abbiamo messi in una vera e propria strategia che ha tentato di percorrere quella strada che in qualche modo è stata eh così eh schematizzata dalla vignetta quella strada quel percorso quella corsia con i diversi ostacoli quindi i biostimolanti utilizzati eh in quanto rafforzanti in verità la lo sviluppo della pianta e la pianta stessa ed in qualche modo eh contrastanti in verità lo sviluppo nel caso specifico di patologie ora senza entrare nel dettaglio eh più di tanto di quello che è il nuovo regolamento appunto uscito nel luglio dell'anno scorso che rivoluzionerà eh praticamente eh quello che è eh diciamo sì la normativa redettiva dei fertilizzanti quello che mi preme eh sottolineare appunto ed eh riportarvi è quello che in verità è la definizione dei biostimolanti e come questi poi ehm quali gruppi in verità eh vengono eh ad entrare dentro questa nuova definizione ehm e ehm questo avviene eh fondamentalmente perché perché eh grande confusione c'era stata negli anni passati eh finché appunto non l'Europa ha sentito la necessità di ride ridefinire fondamentalmente tutto quanto il settore dei fertilizzanti ed individuare anche per lavori eh portati avanti negli anni da diversi ricercatori ridefinire quella che è in verità eh la definizione del biostimolante e come questo può essere utilizzato all'interno di una qualsiasi coltivazione mh vedete questa è la definizione che eh compare eh in verità nel regolamento quindi è a tutti gli effetti un prodotto fertilizzante eh capace di eh stimolare i processi nutrizionali delle piante con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera quindi nel momento stesso in cui viene definita che eh questo biostimolante deve avere delle caratteristiche tale da individuare eh una migliore tolleranza allo stress abiotico oppure ad aumentare l'efficienza dell'uso dei nutrienti o eh migliorare le caratteristiche qualizzative o addirittura rendere più disponibili elementi si va a collocare in quello che è in verità un fertilizzante con diciamo così delle caratteristiche particolari questo mi preme sottolinearlo perché perché sino ad oggi grande confusione c'è stata eh visto anche eh la possibilità che determinati prodotti eh hanno poi di invece indurre resistenze eh oppure di ehm garantire una protezione verso determinati patogeni e o e già faccio questa premessa o e o utilizzare ehm di fatto concimi che hanno delle caratteristiche eh particolarmente versate a una vera e propria difesa in questo modo diciamo così l'Unione Europea ha voluto tagliare fondamentalmente la testa al toro ed ricondurre ad un utilizzo diciamo così eh propriamente di miglioramento della eh della qualità e dello sviluppo delle piante eh i fertilizzanti tutti tra cui anche il biostimolante ehm il regolamento divide fondamentalmente i biostimolanti in due grossi eh settori il biostimolante microbico e il biostimolante non microbico ehm nella prima parte eh sono annoverati appunto eh batteri azotobacter ed anche lo stesso tricoderma nelle diverse formulazioni mh per quanto riguarda biostimolanti non microbici invece vengono definiti eh dei diciamo così dei complessi eh delle sostanze eh riconducibili a quelle che sono presenti in tabella quindi acidi umici e fulvici idrolizzati proteici estratti di alghe di tosano silice estratti di lieto ora tutti questi prodotti nelle strategie che nel progetto abbiamo messo in campo tanto più nella strategia che prevedeva in verità una diminuzione del 50% dei fitofarmaci o addirittura nelle strategie dove non abbiamo previsto nessun fitofarma sono stati utilizzati variamente quasi tutti a parte no in verità quasi tutti sono stati utilizzati e da questa esperienza in parte già la professoressa Mugnai ha sottolineato che ne abbiamo tratto delle conclusioni non secondarie andiamo comunque ad analizzare in maniera dettagliata anche se a volo l'uccello o per quanto riguarda il tempo a nostra disposizione quella che sono i diversi biostimolanti che il regolamento prende in considerazione in viticoltura vengono utilizzati in vario modo per quanto riguarda i biostimolanti microbici vengono utilizzati sia in fase di impianto fondamentalmente ma sono anche presenti in soluzioni variamente utilizzate per via fogliare l'esperienza che noi abbiamo maturato che cosa ci dice? ci dice che nel caso dei trattamenti all'impianto con questi tipi di biostimolanti microbici le risposte della pianta all'utilizzo appunto di questi di questi prodotti risultano essere differenziate a seconda appunto di quale tipo di prodotto andiamo a utilizzare come vedete dalla tabella noi abbiamo in verità provato quattro tesi diverse con ceppi di tricoderma in questo caso diverso ed addirittura una tesi presente anche funghi del genere glomus che hanno portato a delle evidenze sperimentali particolarmente interessanti non vi riporto quelle che sono state i risultati in termini di peso del legno ma in generale quanto ho verificato poi attraverso un'analisi floriometrica della della vegetazione e l'abbiamo riscontrato poi anche in termini di produzione di legno e di sviluppo di radici in via generale da questa esperienza che cosa è possibile vincere possibile vincere come tra le tre tesi messe a confronto la tesi 3 quella che prevedeva appunto presenza di trigoderma e di funghi del genere glomus che sono appunto funghi di particolare interesse arbuscolare abbiamo dei risultati in termini di risposta floriometrica particolarmente interessanti superiore ad qualsiasi altro tipo di trattamento questo ci induce ad ritenere appunto questa tecnica in verità l'utilizzo di questi prodotti particolarmente utile in fase di impianto e addirittura visto che la prova continua non soltanto in fase di impianto l'abbiamo riscontrato anche negli anni successivi anche durante l'allevamento dei primi anni del vigneto stesso questo permette appunto una produzione di legno superiore ma anche fondamentalmente una vegetazione che risulta essere più adatta ad una entrata in produzione più veloce in queste condizioni e con questi tipi di prodotti altri prodotti che vengono utilizzati spesso e volentieri in viticoltura sono appunto gli acidi umici e gli acidi fulvici questo perché si è visto un loro effetto in dubbio su quella che è la capacità di assorbimento da parte dei nutrienti da parte della pianta dei nutrienti presenti nel terreno spesso e volentieri sono associati anche ad acido indolacetico quindi abbiamo un effetto auxinosimile con anche in questo caso uno sviluppo radicale particolarmente buono che può aiutarci in determinate condizioni di terreni non particolarmente favorevoli o viceversa in caso di rimpianti particolarmente stretti altro gruppo sono gli idrolitari proteici che possono essere sia di origine vegetale che di origine animale lo scopo di un utilizzo di questi prodotti è legato fondamentalmente a quella che è l'apporto che questi idrolizzati fanno di azoto alla pianta e questo può in qualche modo incidere su quelle che possono essere le le dinamiche di fermentazione noi sappiamo che in alcune annate tra cui anche questa di che stanno tanto più con vendemmie tardive è necessario un determinato apporto diciamo così di azoto o comunque di di azoto ai mosti stessi onde favorire la fermentazione stessa essendo appunto particolarmente scarichi abbiamo anche in questo caso la possibilità comunque di utilizzare idrolizzati di altre specie le più diverse che sono appunto riportate in tabella estratti di alghe estratti di alghe sono forse ad oggi quelli più presenti sul mercato ne abbiamo di tipi dei più diversi associati o meno ad altri biostimolanti ad altre sostanze ed sono forse in qualche modo diciamo sì i prodotti di punta del settore dei biostimolanti hanno delle caratteristiche diversissime tra di loro vedete che le specie utilizzate sono le più diverse su qualcuna ci sono anche diciamo così dubbi o forse certezze di un'attività anche più propriamente induttore di resistenze per determinati processi che avvengono all'interno della pianta stessa grazie appunto all'utilizzo di questi prodotti in tutti i casi appunto vengono utilizzati ed è bene utilizzarli considerando in maniera dettagliata quelle che sono le schede dei singoli prodotti perché ripeto le caratteristiche di ogni singola alga e di ogni singolo prodotto devono essere attentamente studiate onde evitare poi di avere brutte sorprese data diciamo così le potenzialità che questi prodotti in verità hanno dalla nostra dalla nostra esperienza un'esperienza durata ben quattro anni con una diciamo sì con una prova costituita da sei tesi quello che noi abbiamo visto in termini di sviluppo di mutazione del patrimonio polifenolico è particolarmente interessante se se voi vedete la tesi quattro è in verità la tesi che contiene la minarina diciamo subito che il contenuto polifenolico misurato in questi quattro anni non è variato sono variate però le diverse percentuali dei diversi composti con andamenti alternati a seconda appunto dei singoli prodotti con però interessanti scoperte ad esempio uno fra tutti di resveratrolo dove di fatto si sono registrati dei aumenti nel caso della tesi quattro ad esempio non così immediati e notevoli come ci saremmo aspettati ma comunque interessanti e paragonabili se vogliamo poi allo stesso testimone non trattato ma questo in verità lo sappiamo che è dovuto fondamentalmente a quello che poi è stato l'attacco che la pianta ha subito in termini di patogena e quindi della risposta che la pianta stessa ha avuto nella produzione appunto di resveratrolo noi scientificamente sappiamo che queste sono le dinamiche e in questo caso però diciamo così il danno subito dalla tesi quattro è stato praticamente nullo a differenza in verità del danno subito dalla tesi una non trattato dove invece la perdita di produzione è stata consistente quindi la presenza comunque di resveratrolo in questo caso ci dà proprio la l'idea della reazione della pianta all'attacco stesso del patoggio andiamo avanti il chitosame e silicio nel caso specifico del nostro progetto il silicio l'abbiamo utilizzato abbondantemente con un'alternanza all'interno di quelle che erano le strategie e i risultati che ne abbiamo in qualche modo avuti sono stati sintetizzati appunto precedentemente dalla professoressa Mugnai con alti e bassi e comunque con punti interrogativi su quella che poi è un giusto utilizzo a secondo di quello che è il rischio che noi andiamo ad affrontare estratti di lieviti estratti di lieviti anche in questo caso gli estratti di lieviti devono essere intesi quale biostimolanti quindi all'interno dei fertilizzanti sono nonostante sono più diversi generalmente questi lieviti la composizione di questi estratti di lieviti sono chiaramente più diversi ed in questo caso i risultati che se ne ottengono risultano essere non sempre così determinabili pertanto anche in questo caso è necessario conoscere dettagliatamente quella che è la scheda e le potenzialità che l'eventuale prodotto presente quindi un suo utilizzo risulta essere e deve essere quanto mai consapevole in questo caso noi abbiamo voluto mettere al confronto quelle che sono state le strategie portate avanti appunto dal progetto un prodotto che in verità è un prodotto registrato come fitofarmaco con un prodotto invece di fatto utilizzabile quale biostimolante quindi non registrato quale fitofarmaco l'intendimento e l'intenzione qual era era quello di valutare se appunto così come avevamo già visto per le alghe c'era un mutamento in quello che poteva essere il profilo polifenolico e se eventualmente c'era qualche influsso su quelli che potevano essere gli stilbeni ora per un prodotto ce lo aspettavamo per un altro in verità era tutto quanto da verificare gli stilbeni sono appunto delle sostanze che sono precursori diciamo così di quelle che possono essere delle resistenze che la pianta mette in atto nei confronti fondamentalmente di patogeni fondamentalmente anche in questo caso per un ospora per lo più e oidi in seconda in seconda battuta quello che noi abbiamo notato da questa esperienza fatta appunto l'anno scorso e che stanno riproposta e che in via generale c'è un fenomeno di accumulo quindi continuando nei trattamenti vi riporto soltanto due semplici grafici questo perché in verità le sostanze analizzate sono state in gran numero però ecco questi che sono più caratteristiche diciamo che in linea generale c'è una funzione di accumulo quindi continuando in verità i trattamenti abbiamo una una crescita in quelle che risultano essere le quantità poi di elevabili nelle matrici organiche e le risposte all'interno delle diverse tesi risultano essere differenziate e quindi c'è una differenza tra un uso come nel caso specifico di un fitofarmaco registrato come tale ed invece di un diostimolante e questa risposta ha delle differenze che possono essere analizzate analizzate e devono essere considerate proprio nell'idea che i biostimolanti non possono essere utilizzati quanto fitofarmaci ma devono essere utilizzati in un contesto più generale di protezione della pianta e di rafforzamento delle difese della pianta quindi andando a concludere questa breve scursus su questo tipo di prodotti che cosa possiamo dire possiamo dire che in verità è un'alternativa la dobbiamo dobbiamo aumentare quella che è la quantità di informazioni che noi possiamo trarre dal loro utilizzo all'interno del nostro minieto ci sono delle sostanze ci sono dei prodotti che possono essere e possono funzionare o comunque possono dare portarci a una viticoltura di maggior qualità tanto più se gli obiettivi che ci vogliamo porre sono degli obiettivi particolarmente diciamo sì importanti quale appunto una riduzione dell'impatto della in questo caso difesa sì della difesa del vigneto sull'ambiente ancora qualora nell'ulteriore studio di questi prodotti si venisse a individuare che questi risultano essere a tutti gli effetti prodotti fitosanitari il legislatore dovrebbe in qualche modo intervenire necessariamente o levarle dal mercato questo tipo di prodotti oppure richiedere quello che è un processo autorizzativo che nel caso della difesa dei prodotti fitosanitari risulta essere particolarmente lungo forse anche costoso ma sicuramente importante per la salute di tutti quanti gli operatori e i consumatori grazie per l'attenzione grazie grazie mille Mauro veramente interessante apriamo ora lo spazio per la discussione quindi invito anche gli altri relatori ad attivare il microfono e webcam e prima abbiamo tre rapidissimi sondaggi per completare il quadro il primo vi chiede se ritenete che l'ecosistema viticolo possa essere migliorato dall'uso di prodotti quali i biotimolanti e l'induttore di resistenza risposta semplicissima un sì o un no e direi che si sta evidenziando un plebiscito aspettiamo rapidamente arrivare ai due terzi dei votanti come sempre e appunto direi che abbiamo oltre il 98 oltre il 90% il 97% per la precisione che sostiene il sì l'altra domanda è se ritenete che i biostimolanti o gli induttori di resistenza siano utili ed efficaci per migliorare le condizioni fitosanitarie del vigneto che qui la risposta è molto semplice quindi non c'è da da pensarci troppo anche in questo caso il sì domina a mani basse quindi possiamo possiamo chiudere il sondaggio che siamo arrivati sempre ai fatidici due terzi dei votanti e infine l'ultima domanda a voi e poi diamo spazio alle vostre è se ritenete che i biostimolanti e induttori di resistenza siano economicamente sostenibili in questo caso la la vittoria del sì è meno netta anzi c'è un non dico un testa a testa ma insomma c'è più o meno i due terzi dei dei votanti ritengono che comunque sì e un terzo dice tutto sommato anche no benissimo chiudiamo chiudiamo i sondaggi apriamo lo spazio discussione e e quindi era arrivata qualche domanda intanto agli interventi di di fabio prima un commento di nicola che chiede spesso il concetto di metallo pesante quindi di rame non mette tutti d'accordo vorrei pensare a sapere cosa ne pensano il relatore in merito quindi domanda rivolta a tutti come sì penso che sia un po' rivolta a tutti ma io posso dare una risposta mia personale come agronomo io considero il rame un metallo pesante un fitofarmaco da utilizzare con estrema cautela perché naturalmente come tutti ha dei pro e dei contro naturalmente in questo momento non possiamo farne a meno soprattutto nel mondo del bio però bisogna utilizzarlo sempre con estrema cautela e anche lo stimolo nostro di tecnici è quello di utilizzare tutto ciò che conosciamo per poterne ridurre anche l'uso utilizzarlo nel miglior modo possibile in modo che ogni utilizzo che facciamo sia il più possibile efficiente a tutela di nostra degli operatori di tutto il mondo e dell'ambiente poi se gli altri possano vogliono dire qualche cos'altro però mi sembra non dobbiamo avere delle preclusioni una mente aperta e utilizzare soprattutto la conoscenza che ci permette di renderlo efficace e utilizzarlo nel miglior modo possibile fino a quando non troveremo qualcosa che lo possa sostituire con efficacia sì anche approfondire non so migliorare il discorso del etichette che permettano un utilizzo di concentrazioni minori non ci sono delle cose che si possono fare perché veramente quello il fatto che è stato dimostrato che il rame può essere efficace a dosi molto basse e quindi si possono si può ridurre l'impatto anche in questo modo oltre che con tutti gli altri aspetti del non utilizzo dei fitofarmaci che possono ridurre la quantità in generale però per il rame veramente ancora di più che per altri prodotti ci vorrebbe questa attenzione non so però poi cosa veramente l'ascoltatore voleva sapere se era il suo dubbio qual era comunque ricordiamoci un prodotto di intatto Laura come stai dicendo te ora pertanto anche una legislazione dovrebbe venirci incontro a noi tecnici per permettere un uso corretto oculato legato alle varie fasi di accrescimento vegetativo perché purtroppo ancora con vecchie etichette siamo stretti a usare dosi intere quando abbiamo ridotte superfici da colpire l'utilizzo della quantità giusta per la superficie fogliare che dobbiamo proteggere è una cosa di novietà però poi in pratica non ce la fanno fare si dipende anche dalle case produttrici perché c'è gran parte della delle evidenze scientifiche ci sono possiamo ridurlo ci sono dei coadiuvanti che possono migliorare quelle che sono le caratteristiche titoli atrile del rame la tecnologia di produzione dei nuovi rame è elevata in verità sono paragonabili ai prodotti che utilizziamo in farmacia è necessario cambiare quella che è l'etichetta quindi mettere a frutto quelle che sono le evidenze scientifiche poi ci sono anche ragioni commerciali su cui però ognuno deve fare il proprio lavoro bene a complemento grazie a tutti e tre intanto c'è un'osservazione di Nicola che dice che alcuni sostengono che il rame non è un metallo pesante perché è presente il nostro organismo mi sembra una che per questo è accumulato benissimo anche dalla vite la vite è una grande accumulatrice ad assorbirla si ritrova nei vinaccioli insomma quindi è presente in qualsiasi ha una funzione fisiologica come diceva Mauro vabbè entriamo questa domanda del rame ci apre noi tecnologico siamo costretti a giustificare l'utilizzo del rame se è contenuto in un fertilizzante quando come si è detto ora ha una caratteristica anche fisiologica e quando noi sappiamo benissimo che è impossibile definire una carenza di rame dato che non ci sono limiti veri testati da qualche uno ma però purtroppo bisogna far così non ha polenni però una domanda per Laura da parte di Daniele che chiede quali sono i valori di diffusione di intensità di peronospora oidio nei testimoni non trattati a confronto con le diverse tesi noi in questo caso noi non avevamo un testimone non trattato avevamo il testimone trattato solo con biostimolanti o fertilizzanti e quello era il non trattato con con fitofarmaci e lì abbiamo visto che il primo anno in cui abbiamo seguito esattamente eseguito esattamente esattamente quando c'era un momento di rischio eccetera siamo arrivati all'8% senza utilizzare fitofarmaci ma nel secondo anno in cui abbiamo lasciato andare abbiamo rischiato siamo arrivati al 80% di incidenza sul sulle foglie 20% 25% quant'era sul grappolo comunque importante poi c'è domani Giovanni che fa un paio di un'osservazione una domanda cominciamo con la domanda e ci chiede direi sapere se ci sono studi che confermano l'efficacia contro l'oidio dell'olio essenziale di arancio dolce soprattutto come rimedio preventivo d'aprile eh beh se questo è è un prodotto registrato come tale per la sua efficacia proprio anche contro l'oidio quindi una volta che sei stato registrato ci sono delle prove a supporto che sono state pubblicate non so se voi avete qualcosa sotto mano ma ora io non direttamente ma ho partecipato a delle riunioni che ne mettevano in evidenza l'efficacia con delle prove però io purtroppo ora non le ho comunque basta fare riferimento alla ditta che lo distribuisce sicuramente le prove vengono fuori insomma comunque si è il ministero poi c'è i dossier di iscrizione e per arrivare alla registrazione bisogna produrre un bel po' di prove a conferma Nicola ci chiede se anche il bicarbonato è efficace controlloidio posso rispondere io sì è efficace controlloidio sì sì certo ho delle nuove in corso con dagli ancora non pubblicati ma se prendiamo le giornate fidopatologiche ci sono ben tre lavori insomma comunque c'è anche un prodotto o abbia del bicarbonato ipotassio registrato per questo uso sì sì che ha una buona efficacia buona efficacia anzi addirittura lì visto che abbiamo in parte sfiorato l'argomento di induttore di resistenza insomma c'è dalle prove che abbiamo fatto c'è poi un processo ossidativo molto molto importante nel senso che è efficace controlloidio e va bene per quello che è però poi insomma nelle matrici vegetali abbiamo trovato una risposta ossidativa molto importante quindi evidentemente c'è anche una reazione della pianta altrettanto importante poi vi dicevo Giovanni aveva questa sua osservazione che poi vi lascio commentare dice mi domando questo molte delle tecniche oggi raccomandate ad esempio sovesci plurispecifici inerbimento uso di corroboranti osservazione sono state da alcuni decenni oggetto di diffusione e stimolo da parte di viticoltori sensibili ad approcci organici come quello della biodinamica questa è storia perché di questo non viene detto niente in fondo si potevano anticipare molte tecniche prospettose del suolo e dell'ambiente molti anni prima con innegabili vantaggi sembra di capire che sia una difesa una anzi un'apologia del biologico e del biodinamico ma purtroppo nel soprattutto nel periodo diciamo successivo a quella della cosiddetta primavera silenziosa in cui abbiamo praticamente una buona parte della viticoltura si è difesa su si è arroccata con i principi di interventismo avendo a disposizione tanti principi e ha abbandonato tutta una serie di connessioni e di principi agroecologici che solo esclusivamente nell'ultimo ventennio sono stati riacquisiti tante pratiche che sono state che ora sono di dominio da tutte le parti non vengono più messe in discussione dobbiamo ringraziare tante persone che nel corso del tempo l'hanno mantenuto in vita e di questo naturalmente bisogna renderne conto ci sono dei principi di certificazione non soltanto italiani ma europei che hanno portato in avanti i principi di connessioni agroecologiche tunnel ecologici all'interno dei vigneti che io quando ho iniziato la mia professione all'inizio degli anni 90 non se ne parlava nemmeno in viticoltura convenzionale oggi invece tutti ci basiamo su quelli e dobbiamo essere capaci fortunatamente di far forza su queste esperienze passate per poterli migliorare come abbiamo fatto con questo progetto benissimo allora non ci sono altre domande mi sembra ne aggiungo una io rapidissima per Mauro più che altro una curiosità ho visto che gli acidi umici vengono a volte miscelati con l'acido indolocetico se ho capito giusto no no sono presenti perché provengono dalla degradazione gli acidi umici e gli acidi fulbici vengono dalla degradazione da parte di batteri e in questa degradazione all'interno troviamo dei precursori dell'acido indolocetico non è che vengono mischiati proprio il processo di di formazione degli acidi umici pulbici che porta a questa a queste molecole che sono hanno effetto oxinosimile perché viene aggiunto ho capito come l'acido indolocetico a sua volta poi è il precursore dell'aminoacetofenone che è tra i principali responsabili dell'invecchiamento atipico mi chiedevo se non ci fossero poi rischi sulla produzione dei rischi appunto i rischi in quello che è lo sviluppo del processo chimico sì però in questo caso è del tutto naturale è tutto quanto un processo che viene di origine da parte appunto dei batteri quindi non viene aggiunto ed non ci sono evidenze che poi in queste sostanze in verità abbiamo appunto la produzione di sostanze protericolose per la salute ma a tutt'oggi non ce l'abbiamo questo è benissimo allora siamo arrivati abbiamo sforato un po' i tempi ma direi che ne valeva assolutamente la pena io vi ricordo i giovedì venerdì prossimo scusate vi ho lasciato nella chat il link per la registrazione il prossimo webinar del progetto Life Green Grapes verterà sulle strategie di difesa relative all'uva da tavola ma appunto con molti spunti penso interessanti per tutti gli agronomi all'ascolto e vi anticipo già che tra dicembre e gennaio partirò un nuovo ciclo di webinar dedicato alla presentazione dei nuovi risultati del progetto quindi rimanete sintonizzati che ci saranno presto novità forse già da venerdì prossimo riusciremo a darvi qualche anticipazione sul calendario io ringrazio io ringrazio tutti i relatori se volete fare un saluto finale poi ci congediamo dal pubblico buona serata a tutti buona serata a tutti e Green Grapes buona serata a tutti grazie grazie a tutti complimenti ciao a tutti ciao 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 bravi 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 brava brava Laura veramente ciao dai ci si è fatta ciao ragazzi ciao a tutti chiudo ci sentiamo settimana ciao ciao ciao